Eeeh what's up a tutti ci sono e benvenuti da giocare in questa nuovissima serie su Among the Sleep Vediamo ragazzi se per questo primissimo episodio riusciamo a raggiungere almeno i 25 like E quindi eccoci qua, avevo detto che avrei cercato un nuovo gioco horror Vi dirò la verità è stato un pochettino difficile Perché diciamo che i giochi horror quelli più conosciuti tipo Outlast, tipo Resident Evil, tipo The Evil Within Li ho portati per cui trovare magari altri giochi horror dal titolo di quel calibro Non so se capite quello che intendo È un pochettino difficile ora come ora Intanto vorrei ringraziare Sir Light che ieri sera è stato paziente e mi ha consigliato alcuni titoli Titoli che comunque ho guardato e che magari terrò in considerazione per il futuro Perché un paio di essi sembravano veramente promettere bene Però ragazzi ho deciso di buttarmi su questo gioco perché mi sembrava abbastanza particolare L'unica cosa che so è che vestiremo i panni di un bambino di due anni Per cui già questa cosa sembra abbastanza... Ci siamo capiti insomma Non perdiamo più tempo ragazzi ed andiamo ad iniziare una nuova storia Ok qua ci dice come utilizzare i tasti per il movimento ovviamente Per guardarci intorno Lo spazio per mettersi in piedi o per arrampicarsi Il tasto sinistro per interagire CTRL per accucciarsi ovviamente E shift anche per sprintare ragazzi Uff andiamo Dove andrà mai a parare un gioco del genere ragazzi eh? What the fuck is this? Che diavolo? Ma che cavolo? Uff Chi è? What the fuck? Ma che cavolo? Ah Mi Già si è rotto? Mamma Come potete vedere ragazzi siamo un bamboccio Anzi una bambina credo di due anni E se questa te la buttassi per terra E se prendessi anche questo e te lo buttassi per terra posso? Let's see There Ah ok posso solo spostare gli affarini Peccato pensavo di poterlo buttare per terra È una torta Eeeh Sì è ovvio certo Scusa eh Dammi la mia torta è mia vero? Dammela 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 Oh Sì è vero abbiamo due anni Grazie ma grazie Eh già 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 Mazza oh Tagli effetti col cucchiaio tu Sì 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 Chugga 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 Uuuh buona mia 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 E alle fragole ti avevo detto è un mi piace alle fragole Oh 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 Ma Ma Ok questa cosa è strana Ma io non ho finito La mia torta Che sta succedendo adesso Che cazpita succede? Che c'è che c'è che c'è? No Che c'è che c'è? Perché Perché mi si è Improvvisamente Oh Oh Ha tanto l'aria di essere un regalo Potremmo vederlo qua Ma scusa aspetta Ma aspetta aspetta ma La mia torta Ma sembra arrivato solo un pezzo Maledizione Dammi il resto della mia torta Uffa Bel medaglione Sembra quello di Di Ursula nella sirenetta Da Ah la mia torta Ma Ah Basta bacini Basta Non vedi più bacini No more kisses No What the fuck Oh Che figata Bella la trovata Eh Sì Ma Ma E Ma C'è un'ombra Che ci Che 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 ci sta seguendo Ma La vedi? Tu la vedi? Dimmi che la vedi pure tu Ok questa cosa è impietante Ok questa cosa è impietante No Ombre no Ok Ok siamo di sopra Spero che l'ombra Non sape salire le scale Eh Invece Sembrerebbe di sì Mala Con citetto armana Non ti accorgi Quello che sta succedendo Sembrerebbe di no Che bella La mia camera Ho sempre sognato Era una camera così Ci sarà Una bicicletta? O magari Uno Uno cibolo Ma che carino Tu ti devo Sì ma Aprimi il regalo C'è un orsacchiotto dentro Dammelo Ma che palle Ma Non sei una broma Ma non è Mi hai dato Un pezzo di torta E non mi dai Quello che c'è Stare entrando la scatola Ma che su In serio No Cioè Parlamone Un attimo Parlamone Mi ha appena salvato Oh Aspettate un attimo Il regalo si muove? Si stava muovendo Il regalo L'abbiamo visto tutti ragazzi Ok Per raccogliere un oggetto Certo Certo Che lo raccolgo Guarda C'è un modo Per lanciarlo via Certo Con R Distruggerò tutta la casa Assolutamente No Questa non ce la faccio Ovviamente Troppo grossa Ma che bello Guarda C'è un lopo e maio Vabbè Sti cavoli Ok Ok Così CTRL L'avamo visto Ammazza Gattonare Più veloce C'è il camminare Lo sto dicendo io Adesso Minchia Sembra Ho messo Il turbo Ok Space Per arrampicarci Ovviamente Ecco fatto Dove devo andare Di qua Mi butto Guarda caso C'era un cuscino Giusto dovevano scendere Lefty shift Per correre Tieni premuto Per aprire i cassetti Ok Ma ammazza Omo Sono dato sul naso Belli vestiti Disegnati così Tu No Tu mi fai schifo Non sei il mio nuovo Orsacchiotto Vai via Ah Qui c'è spazio Solo per il mio nuovo Orsacchiotto Non vedo l'ora Di vederlo What the Fuck C'era l'orso Qua dentro Dove è il mio nuovo Giocattolo Adesso Mi comincio A far casino Che carino Il trenino Dove è il mio Orsacchiotto Orsacchiotto Mi butto Ah Pesce Non posso Cavolo Pensavo di fare Una cosa meravigliosa Orsacchiotto Sei qua Tieni premuto Ok Per spingere Gli oggetti Ok Ammazza Altro che Wonder Woman Qua Già è nata Wonder Woman Posso lanciare via La sveglia Davvero Non ho fatto Un rumore Non ho fatto Orsecchio Orsecchiotto Certo Orsacchiotto Ti faccio Lo strike Cavolo Ce l'avevo sperato Sul serio Guarda Ma con questo È più facile Di sicuro Ah no Niente Oh Ma sei qua dentro Che fai che te la ridacchi Ehi Ehi Ah Eh giusto Sul pallone Porca madre Mi nome è Teddy Nice to meet you Ehi Qual è il tuo nome? Eeeh Non è molto Di un parlato Eh Già Siamo giocati Un gioco Ok I know I'll hide the pink elephant While you're not looking L'ho buttato di sotto Le Vante rosa Non so se te ne sei accorto Come here Turn around And cover your eyes Davvero Qual che faccia questa cosa? Cioè mi devo girare Cioè ci ricordiamo tutti Pedobear Vero? Quindi mi dovrei fidare di te Che non sei Poi così carino E coccoloso Premi esc Per coprirti gli occhi Addirittura E me la pausa There You can look now Oh What the fuck Ok si Hai un'aria A dir poco Inquietante Quindi non so sinceramente Se fidarmi di te Dove diavolo hai messo Il mio elefante rosa? Fuochino Davvero Sarà qua sotto Per caso Ah Quanto pare no Acqua Ehm Ma ho detto fuochino Quando ero in mezzo Alla stanza Di qua L'hai rimesso Dentro la cassa banca? Sembrerebbe di no E qua Dove minchia L'hai messo L'elefante rosa? Ah si Ci stiamo avvicinando? Ah ok 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 Significa che siamo vicini D'accordo Sarà per caso Qua dentro Certo 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 Super warm Ma sei Tronzetto o che? Che vuoi farmi fa? Oh Non c'è niente qui dentro Non mi fa andare più avanti Scemo Eh che ca Ma che ca Mi stai prendendo in giro Ah eccolo E qua dietro Meno male Guarda Già il fatto dell'armadio Mi aveva Un pochettino Destabilizzata Di dire la pura verità No Eh si Si infatti Eccolo qua Eccolo qua No tieni Che vuoi adesso Da me Non lo senti Che funziona Lo sento io E' un carion Si caro Teddy Si 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 Il fatto che continui a fissarmi così Non è che Mi incoraggi molto A fare qualsiasi cosa Ma fa niente Eccolo qua Il carion Lo vedi Il carion Eh Si D'accordo Che intenzione di fare Di seguirmi Per tutto il tempo Non so cosa fare Sinceramente Non ho la mia idea Vuoi vedere Una cosa figa Guarda È un libro Suppongo Un libro Guarda Una pipettina Delle pagine Ogni Ma questo sembra l'orsetto Di Mr. Bean Volevo mostrartelo un attimo fa Prima che tu mi interrompessi Così Arriva in stazione Ciup ciup Pure che so il tuo servetto Va bene Usiamo left mouse per interagire Ok Ma perché dovresti volermi portare Là dentro Non mi piace Non mi piace per niente Ok D'accordo Non mi piace Per niente Che sì Oh 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 merda Sei veramente Un grossissimo pezzo Di merda Ok Tieni premuto F Per abbracciare Teddy Wow Ma che figata Funziona tipo Tipo la lanterna di Amnisha Quanto sta che L'atmosfera è già completamente cambiata Eeeh Cos'è Accendi 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 Sono tutti cappotti Sono tutti cappotti Sono cappotti Ma Non mi piacciono Non mi piacciono Non mi piacciono Lo devo Proprio di no Spero non ci siano mostri qui Non mi piacciono Non mi piace E meno a me piace La conce Tu madre Non mi piace Non mi piace Uffa Cos'è 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 Niente scherzi Niente scherzi Sì Lo sento Tu sei amareletto Tu mi hai fatto entrare qua dentro Ma Sì Guarda Meraviglioso Non mi hai dato manco Un decimo Della torta Che mi hai fatto Per il compleanno C'è ancora il sole Che spacca le pietre Ora E basta Va bene Ok Diciamo che sì Ma Ma pensi Che sono deficiente Ho due anni Ma non so Scemo Ma so Che non stanno Dormendo Sosti bambini Del mondo Esistono i fusi Orari Sai Inquietante Maledettamente Inquietante E E E E E E Sì Che c'è Teddy Teddy Dov'hai? Teddy Teddy Dov'hai va Teddy Oddio che succede? Oddio Oddio perché? Perché? Va bene Diciamole sì eh Ok ragazzi Ho giocato soltanto 20 minuti Di questo gioco è già stato capace di Angosciarmi Abbastanza Cioè il tratto dell'armadio ragazzi Con tutti quei cappotti veramente Non so voi ma mi è inquietata In una maniera allucinante E adesso non so cosa diavolo stia succedendo Lo scopriremo la prossima volta Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione E un budosha a tutti ragazzi Ciao Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione Tutti i link dei miei social I link per fare delle donazioni E il sito digital24.it Dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti Grazie al mio codice